Incidente nella mattinata di giovedì 29 dicembre intorno alle 9 sulla strada provinciale 565 Pedemontana poco dopo l'incrocio per Bairo. Una Renault Clio fuori controllo uscita di strada e si è ribaltata nel fosso che costeggia la careggiata. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della croce rossa di Castellamonte, i vigili del fuoco di Ivrea, i carabinieri di Aglie e gli ausiliari Anas. L'uomo, dopo le prime cure, è stato trasportato all'ospedale di Ivrea, non è in pericolo di vita, il sinistro è al vaglio dei carabinieri. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!